17 giorni per 5 opere allestite su tre grandi palcoscenici. Dalla Vitrificorena ai ritrovati Teatro Rossini e Auditorium Scavolini che il 7 agosto sarà il luogo d'apertura del 45esimo Rossini Opera Festival. Un ROF extra large in ossequio all'anno di Pesaro Capitale della Cultura che parte dai riallestiti spazi dell'ex Pallia Festival di Viale dei Partigiani che come Auditorium Scavolini tornerà ad ospitare il ROF 19 anni dopo l'ultima volta. Ospiterà lo spettacolo inaugurale della nuova produzione di Bianca e Falliero che non veniva eseguita a ROF dal 2005. Un'opera in cui Roberto Abbado dirigerà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in un cast che annovera tra gli altri Jessica Pratt e Aia Wachizono. L'8 agosto segna invece il ritorno del Teatro Rossini con la ripresa dell'Equivoco Stravagante in cui Michele Spotti guiderà la filarmonica Giochino Rossini e il coro del Teatro della Fortuna. Il 9 agosto alla Vitrifigo Arena sarà invece la volta della seconda nuova produzione. L'opera Ermione assente a ROF da 16 anni è diretta da Michele Mariotti. Il 10 agosto la quarta opera sempre alla Vitrifigo Arena sarà il barbiere di Siviglia di Pierluigi Pizzi diretto da Lorenzo Passerini. Dall'11 agosto seguirà un fitto programma concertistico con dieci appuntamenti tutti al Teatro Rossini mentre il 16 e 19 agosto gli allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda saranno protagonisti del viaggio a Rems sotto la direzione di Davide Levi all'auditore Miss Cavolini. Un viaggio a Rems che in occasione del quarantesimo anniversario della sua prima esecuzione diretta da Claudio Abbado sarà proposto in forma di concerto il 23 agosto come chiusura del ROF 2024.